Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del Tg6 che apriamo parlando della maratona che è iniziata questa mattina in consiglio regionale in vista dell'approvazione del bilancio. Si annuncia battaglia tra la maggioranza e le opposizioni a suono anche di ostruzionismo ma ha fatto specie anche lo scontro che c'è stato in aula tra il presidente della regione D'Alfonso e i grillini che hanno protestato. C'è stato anche un alterco con la consigliere Marcozzi ma vediamo il servizio. Che l'approvazione del bilancio di previsione della legge di stabilità del documento di programmazione economica e finanziaria non sarà una passeggiata lo si è capito ancora prima dell'inizio della fattidica seduta del consiglio regionale di oggi con i consiglieri del Movimento 5 Stelle che hanno occupato gli scranni della giunta e appeso cartelli che riassumono le ragioni del loro profondo dissenso. Noi non possiamo assolutamente tollerare che il consiglio sia esautorato nelle sue prerogative, non abbiamo al momento altro mezzo per contrastare scelte che non ci sembrano quelle né corrette né opportune. In realtà abbiamo dei documenti ma non abbiamo la possibilità di consultare quelle che sono delle informazioni essenziali che sono i capitoli e gli articoli. E pentastellati hanno tenuto la posizione e hanno retto botta anche all'arrivo del presidente Luciano D'Alfonso che messa da parte la galanteria letteralmente ha sfilato la sedia alla consigliera Sara Marcozzi e strappato qualche cartello per poi accomodarsi in un'altra postazione in attesa degli eventi. In contemporanea Forza Italia in una conferenza stampa di fuoco ha elencato i numeri del fallimento di questa legislatura dal loro punto di vista e ha confermato che in aula sarà ostruzionismo puro e duro. Ma intanto il bilancio oggi con una nuova normativa non si conosce molto e quindi questa è una delle ragioni che ci hanno portato anche ad avere un atteggiamento duro, tuttavia è duro perché la situazione dell'Abruzzo è dura, è difficile, noi abbiamo un Abruzzo in controtendenza, gli ultimi dati ci dicono che siamo arrivati ad essere la penultima regione italiana. In realtà la maggioranza un'arma ce l'ha, la cosiddetta legge tagliola che consentirà per contingentare i tempi di ridurre a 5 per consigliere gli oltre 3.000 emendamenti che l'opposizione si appressa a portare in aula. Ma anche con la tagliola a conti fatti l'opposizione potrebbe attuare un ostruzionismo anche superiore alle 50 ore grazie ai 120 emendamenti possibili sulle tre leggi finanziarie. Ed è per questa ragione che il presidente del consiglio Giuseppe Di Pancrazio invita al buonsenso. Difende la manovra di bilancio infine Maurizio Di Nicola del Centro Democratico e spiega che se non sono stati consegnati i dati di dettaglio della manovra è perché questo prevede la norma nazionale. L'opposizione se ne faccia una ragione. Un bilancio nuovo che ha originato sicuramente una contrapposizione forte delle minoranze perché è nuovo nel senso tecnico del termine. È un bilancio che è costruito per missioni e programmi non più per capitoli. È ciò che il legislatore ci ha chiesto dal 2011 cioè costruire un bilancio che non finisse in una dispersione di mille rivoli di risorse funzionali più alle clientele di ciascuno dei consiglieri o dei potentati di interesse ma che fosse invece lo strumento vero di programmazione e quindi è un bilancio che dal punto di vista dei consiglieri di minoranza pecca di trasparenza ma in realtà è semplicemente il bilancio che verrà adottato da tutte le regioni per far sì che tutti i dati possano essere comparabili. Sono venuto stamani per partecipare ad ogni forma di dibattito ma non all'impedimento fisico. La prossima volta cosa ci dobbiamo attendere? Il fuoco? Così il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso rispondendo pur senza citare il Movimento 5 Stelle alle accuse dei grillini di aver spintonato il consigliere Sara Marcozzi nel corso della protesta che ha portato la forza di opposizione a occupare gli scranni della giunta al consiglio regionale immagini che abbiamo visto nel precedente servizio. D'Alfonso ha pronunciato questo passaggio intervenendo nella seduta del consiglio regionale chiamata ad esaminare il documento di programmazione economico-finanziario, il bilancio di previsione e la legge di stabilità. Restando sempre in tema di seduta del consiglio regionale, stamani fuori l'emiciclo protesta degli ambientalisti per chiedere maggiori fondi per le riserve naturali e i comitati che si oppongono alla realizzazione del metanodotto SNAM. Dentro il palazzo maggioranza opposizione affilano le armi pronte alla battaglia per l'approvazione della manovra finanziaria. Fuori il palazzo fanno altrettanto i cittadini arrivati in buona parte dalla Valle Peligna per protestare contro la realizzazione del metanodotto SNAM. E' della centrale di compressione anche nella sua versione eco, ovvero elettrica e non a gas, da realizzare a Sulmona. Siamo qui ancora una volta per ribadire la nostra contrarietà, già espressa anche con un deliberato del consiglio comunale. Ed è espressa dai cittadini ad un'opera impattante che sarà il metanodotto che passa in zona altamente sismica e lungo la faglia. E' la centrale di compressione, anche la cosiddetta centrale di compressione elettrica, non ci sta bene. Non vogliamo nessuna centrale, non vogliamo nessun metanodotto. Proteste anche da parte di varie sigle ambientaliste che chiedono certezze sui fondi regionali da destinare alle osi protette e in generale alle politiche ambientali di cui assicurano non vi è traccia nel bilancio regionale. Le riserve naturali si rischiano l'ennesimo taglio nei finanziamenti, un taglio tra l'altro autodanneggiante perché ogni euro investito nelle riserve ne comporta 4 di movimento economico positivo. Questo taglio tra l'altro non è neanche annunciato, cioè annunciato ma non è neanche quantificato perché non si sa quanta somma c'è in bilancio per le riserve. Una situazione veramente sconcertante e allucinante, non possiamo fare altro che protestare. E poi c'è anche il masterplan che non vi convince. Il masterplan non ci convince in un modo più assoluto, abbiamo fatto diversi documenti, ci sono delle scelte soprattutto per quanto riguarda le montagne che sono anche queste controproducenti. Occorre che la regione di Abruzzo che ha scelto per sé la via della regione verde d'Europa sia conseguente nelle proprie scelte e non faccia danno a se stessa. Vado avanti secondo questa strategia che è una strategia vincente che può portare grandi benefici all'economia ma non può essere disattesa a ogni iniziativa economica e a ogni fondo che arriva. Bisogna essere conseguenti e andare avanti decisamente sulla strada giusta. Via Libera al pagamento di tutto il salario delle annunità 2014 per i dipendenti del Cotir, il centro di ricerca regionale, i cui addetti sono senza stipendio da due anni. Lo ha annunciato l'assessore regionale Dino Pepe che ha incontrato insieme con il presidente della commissione agricoltura Berardinetti e il commissario del centro Cleofe i rappresentanti sindacali per fare il punto della situazione in merito agli emolumenti e al futuro del centro di ricerca. Nell'incontro si è parlato anche del progetto di riordino degli stessi centri di ricerca. L'occasione è stata utile per acquisire le prime necessarie considerazioni e riflessioni per arrivare entro breve alla presentazione di un progetto il più possibile condiviso e partecipato con il contributo dei lavoratori, dei sindacati e delle organizzazioni professionali agricole. Un pool di avvocati del Codacons si è messo a disposizione dei risparmiatori che hanno investito nelle obbligazioni delle quattro banche salvate dal governo tra cui Carichieti per cercare attraverso le vie legali di riottenere i soldi andati in fumo. Ascoltiamo Vittorio Ruggeri, legale del punto di ascolto Codacons di Chieti. Codacons in campo per conto di una cinquantina di risparmiatori almeno fino a questo momento. Cosa state facendo per cercare di dare risposte concrete come Codacons a questi risparmiatori? Di fronte alla richiesta di aiuto che abbiamo ricevuto da parte di circa una cinquantina di risparmiatori ci è parso assolutamente doveroso provare a mettere in piedi un pool di legali che in qualche modo possa offrire risposte soddisfacenti rispetto a un problema che è sicuramente un problema molto molto serio. Per questo abbiamo appunto contattato l'avvocato Luciano Fanti che è esperto di diritto bancario perché appunto vogliamo provare ad offrire delle risposte. Noi abbiamo un problema sostanzialmente che abbiamo una legge sulla class action che è assolutamente inidonea a tutelare i diritti dei risparmiatori che subiscono vicende tra virgolette anomale perché è chiaro che abbiamo assolutamente bisogno dell'introduzione anche nel nostro sistema del danno punitivo. Dal punto di vista civilistico noi riteniamo che tre sono le strade che in qualche modo possono essere eseguite. Si tratta appunto di azioni in qualche modo mirate. La prima ovviamente previa, attenta valutazione, tutta la documentazione del risparmiatore a valutare se ci sono ipotesi di responsabilità precontrattuali o contrattuali in termini di mancanze di informazioni, investimento non adeguato rispetto al profilo del risparmiatore e alla sua propensione appunto al risparmio e via dicendo. La seconda ipotesi è un'ipotesi di azione di esercimento danni nei confronti della Banca d'Italia per omesso controllo perché che se ne dica è la principale responsabile di quello che è accaduto e la terza ipotesi di lavoro è un'ipotesi per così dire incidentale rispetto alle due precedenti che dovrebbe portare a una declaratoria di incostituzionalità della norma che fa retroagire gli effetti della cosiddetta procedura bail-in che entrerà in vigore dal 1 gennaio del 2016. Avvocato, per chiudere difficilmente però i risparmiatori riusciranno a riavere indietro tutti i soldi investiti? Da questo punto di vista noi invece siamo assolutamente ottimisti. L'esperienza che abbiamo ci dimostra che nella stragranda maggioranza dei casi l'operato delle banche non è stato mai perfettamente corretto. Quindi noi riteniamo che ci si può tranquillamente lavorare. È stato rinchiuso in una comunità per minori il 15enne di Vasto accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Le indagini svolte dagli agenti del locale commissariato hanno accertato che negli ultimi due mesi il giovane approfittando della condizione di disagio fisico del padre dovuta ad un infortunio con minacce e insulti si è fatto consegnare 500 euro. Il 15enne in maniera regolare ha sottoposto il padre a continui soprusi fisici e minacce e contro la volontà del genitore ha ospitato alcuni amici dediti all'uso di alcol e sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Merce avariata, stipata, senza rispettare le norme igieniche, prodotti cosmetici senza certificazione. Sono solo alcuni dei prodotti posti sotto sequestro da un'operazione congiunta tra Polizia Municipale di Pescara, ASL, Servizio Veterinario e Igiene Alimenti. Vediamo il servizio. Prodotti mal conservati, alimenti scaduti, merce senza descrizione di composizione. La Polizia Municipale di Pescara fa un resoconto dell'operazione portata a termine nelle vie centrali della città nel periodo natalizio, controlli compiuti unitamente all'ASL, al Servizio Igiene Alimenti e all'amministrazione comunale. Si è proceduto al sequestro di 33 kg di denti, ha variato quindi da viviare alla distruzione, nonché si sono posti in essere dei verbali sia per prodotti alimentari in vendita, non riportando indicazioni in italiano, sia per quanto riguarda cosmetici che mancavano delle stesse indicazioni e quindi non chiaramente comprensibili nella loro tracciabilità, sia poi per prodotti posti in vendita senza la prescritta etichettatura. Ora il tutto in un'attività svolta congiuntamente con l'ASL che fa sì che la Polizia Municipale venga conosciuta e ricordata non solo per le odiate multe, ma anche per quelle che sono attività quotidiane poste a tutela del consumatore. Nel corso degli accertamenti compiuti, 60 in tutto, sono state 23 le attività ritenute non legali. Si parla di commercio ambulante abusivo. Oggi, anche nell'ambito della derregolamentazione che c'è stata a livello nazionale, non c'è più la possibilità o l'obbligo di vendere soltanto una tipologia di prodotti. Questo certamente non favorisce un'attività di controllo. Tante attività e tanti negozi aprono oggi con una mera segnalazione certificata di inizio attività e quindi è quando vai sul posto, sul controllo, che trovi situazioni come queste, sicuramente non di tutela del consumatore. Con una chiamata ad un'anziana di Chieti, uno sconosciuto, si finge collaboratore di un avvocato e le comunica che il figlio è in difficoltà, è in stato di fermo dopo un incidente stradale. Per risolvere la vicenda occorrono 2.500 euro. Poco dopo è proprio questa la somma che la donna consegna al truffatore che si presenta alla sua porta presi i soldi. Lo sconosciuto ha poi fatto perdere le sue tracce sul fatto. Stanno indagando i carabinieri della compagnia di Chieti che hanno diffuso una nota. Nonostante gli sforzi messi in campo da carabinieri, polizia di Stato e altre forze di polizia, tali episodi purtroppo continuano ad accadere, le vittime continuano a cadere nell'inganno, talvolta subdolo, ma di facile verifica anche con una semplice telefonata. Di qui l'invito rivolto alle persone anziane a non accettare tali forme di approccio e in caso di dubbio a telefonare ai numeri 112, 113 e 117. Restiamo a Chieti. L'amministrazione comunale presenta i risultati dell'attività svolta in merito alla diffusione della differenziata nella città. Ad oggi la copertura raggiunge il 65% del territorio. Differenziata a Chieti. A conclusione 2015 si tirano le somme del lavoro fatto e soprattutto dei risultati raggiunti. La cifra è del 65% e tra i riconoscimenti giunti all'amministrazione c'è anche la certificazione EMAS. Intanto siamo tra i primi dieci capologhi di provincia in Italia ad aver raggiunto una percentuale del 65%. E non per ultimo, quest'anno è stata rinnovata al Comune di Chieti la certificazione ambientale EMAS, che ricordo essere il top delle certificazioni ambientali per i prossimi tre anni. Con l'anno che verrà, nel 2016, ci sarà la nuova gara di appalto. Tutte le migliorie, grazie ai cinque anni di esperienza fatta dall'amministrazione con i propri cittadini, verranno messe all'interno del nuovo capitolato per migliorare appunto il servizio e raggiungere una percentuale che ci consentirà di scalare ancora maggiormente la classifica, la gradatoria di lega ambiente, cercando di raggiungere una percentuale che va tra il 65 e il 70%. Da un lato l'ambizione di ottenere sempre più diffusione sul territorio in modo da renderla ancora più capillare. Dall'altra, l'obiettivo di non gravare sulle tasche dei cittadini. Grazie alla raccolta differenziata, la parte del secco residuo che va conferito e smaltito in discarica è nettamente minore di quando è partita la raccolta differenziata del 2010. Siccome lo smaltimento è a carico del Comune stesso e quindi dei cittadini della stessa città di Chieti, va assolutamente a scendere e ci sarà un risparmio man mano che cresce la percentuale della raccolta differenziata stessa. Anche a Spoltore, Avezzano e San Giovanni e Teatino niente botti di capodanno. Dopo le relative ordinanze firmate dai tre sindaci, rispettivamente Luciano Di Lorito, Giovanni Di Pangrazio e Luciano Marinucci, i tre comuni si aggiungono alla lista dei tanti centri abruzzesi che hanno proibito l'utilizzo di petardi e fuochi pirotecnici tra cui Pescara, Chieti, Montesilvano, Francavilla al Mare e Sulmona. I provvedimenti saranno in vigore fino al prossimo 7 di gennaio. Per i trasgressori sono previste multe anche salate. I divieti di utilizzare i botti sono stati disposti sia per la sicurezza delle persone sia per quella degli animali in relazione all'inquinamento acustico. bilancio di fine anno per il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, che ha parlato delle opere portate a termine e di quelle che si concluderanno il prossimo anno. Sindaco Luciani, tempo di bilanci per la sua amministrazione. Nella conferenza stampa di oggi parlerà di quello che è stato fatto a Francavilla negli ultimi quattro anni, ma anche di quello che si cercherà di fare nel 2016. Sì, oggi diciamo che diamo una visione di ciò che è stato fatto nel 2015 e ciò che ci apprestiamo a fare per il 2016, perché in verità da questa analisi esce fuori quello che è il disegno della città del futuro, che noi abbiamo già ben viva nella nostra mente, ma che dobbiamo far capire ai nostri cittadini. Per dirne una, abbiamo risolto un problema che avevamo da 10-15 anni, se non di più a Francavilla al Mare, che era quello di non avere una caserma dei Carabinieri degna di questo nome. Ebbene, i lavori sono terminati, i primi mesi del 2016 verrà inaugurata una nuova struttura. Ma non solo questo, abbiamo inaugurato nel 2015 un nuovo asilo comunale, che è moderno ed efficiente. Abbiamo iniziato i lavori per la pista ciclopedonale nella zona nord, quindi tanta opera di riqualificazione della città, da tutti i parchi e giardini, alla zona sportiva, che stiamo trasformando veramente in un gioiello, che sarà un polo d'attrazione per l'intero Abruzzo. Noi siamo solo all'inizio del percorso, abbiamo posto le basi per far uscire questa città totalmente dal degrado. Sono ancora molte le zone nelle quali bisogna intervenire, bisogna riqualificare il centro e in particolare la Sirena e il Palazzo Sirena, bisogna riqualificare tutta una serie di viabilità che c'è in molte zone, anche periferiche, dove oggi esistono ancora sacche di degrado, però ci siamo apprestati a farlo avendo risanato il bilancio, potendo oggi programmare, non più vivere sull'emergenza quotidiana. Oggi abbiamo in mente ciò che va fatto e quindi ora stiamo disegnando veramente la città del futuro, una bellissima città che ha un futuro roseo con un percorso assolutamente in discesa. Tiene banco in questi giorni a Giuranova la polemica sull'imposta di soggiorno, un argomento sul quale oggi è voluto tornare il sindaco Francesco Mastromauro dicendo che sull'argomento sono state affermate tante inesattezze. Dell'imposta di soggiorno, ha dichiarato il primo cittadino, si iniziò a parlare nell'autunno del 2011, quando in tanti ne chiedevano l'applicazione, ma oggi su questo argomento sono state dette e scritte tante inesattezze. Così le chiarisce il primo cittadino. Ho sentito tante parole che chiamerei in libertà. Io richiamo tutti ad essere oggettivi e a dire le cose come stanno. Io ho sentito tanti fare comunicati e parlare di tassa di soggiorno. Per vero la tassa è una imposizione che grava sui cittadini e in questo caso non è così. Il legislatore nazionale ha introdotto una imposta di scopo che proprio per sua natura non è un qualcosa che grava sui cittadini, ma che grava sui turisti. Nel 2011 venne introdotto, io sono stato investito dagli altri sei sindaci della costa terramana da fare un po' da coordinatore. Noi facemmo una riflessione più alta, con il contributo mio, lo ricorderanno tutti, dicendo che i tempi non sono ancora maturi. All'inizio del 2015 questo tema è stato rilanciato nella mia città. Da chi? Dalla maggioranza, che non lo ha fatto perché deve coprire buchi di bilancio, assolutamente, anche perché chi dice questo non conosce bene la natura di questa imposta. Peraltro è stata portata avanti proprio da quel gruppo che in questi giorni attraverso il suo capogruppo, Luigi Ragni, ha detto che non è d'accordo sull'imposta di soggiorno. Questa è stata un'affermazione a qualquanto singolare e paradossale. Quindi per Mastromauro nulla è stato ancora deciso dal momento che il bilancio 2016 deve essere ancora approvato e che saranno necessari altri incontri affinché tutti i pro e i contro legati alla imposta possano essere analizzati con la dovuta attenzione. Per questa ragione il sindaco ha riconvocato una riunione con gli altri sindaci della costa per condividere una scelta che può essere positiva o negativa, portando la riflessione nella città, in un'assemblea pubblica che ci sarà a gennaio e nelle consulte che io ho voluto in questa città di settore come quella del turismo. Conferenza stampa di fine anno, questa mattina a Roseto degli Abruzzi, bilancio positivo per il sindaco Ennio Pavone che evidenzia i risultati più importanti raggiunti nel 2015. Un anno molto importante per noi, siamo a quattro mesi dalle elezioni, quindi è una conferenza stampa di fine anno, ma è anche una conferenza stampa che può racchiudere anche tutto il nostro mandato che è arrivato a conclusione. Fra qualche mese ci sarà lo scioglimento del Consiglio Comunale, quindi abbiamo voluto ricordare soprattutto quello che è avvenuto nel 2015, alcune opere importanti, alcuni interventi che hanno cambiato l'aspetto della nostra città, in particolare penso alla raccolta differenziata porta a porta. Finalmente dopo anni e anni di discussioni, di chiacchiere, la città non ha più i cassonetti. Siamo passati dal 6% di raccolta differenziata quando siamo arrivati in questa città a governarla ed era una delle più basse percentuali d'Italia. Adesso siamo al 45% e contiamo di arrivare al 65% prima della fine del nostro mandato. Penso poi ad altri interventi che cambieranno l'aspetto e il volto di Roseto, penso alla pista ciclabile per esempio che stiamo per appaltare all'inizio dell'anno, appalteremo i lavori su 9 km di pista ciclabile che collegherà Roseto con Scerne di Pineto e anche il ponte sul Vomano che verrà appaltato dalla provincia. Penso ad alcuni interventi anche di carattere simbolico molto forti, l'antenna di Montepagano, tante volte si era anni di discussione, noi avevamo scritto che l'avremmo tolta, l'antenna a Montepagano non c'è più. Penso anche ad alcuni interventi di decoro sul decoro urbano, al parco Nino Bixio, un lavoro atteso da anni, che i cartelli erano già lì prima che arrivassimo noi e che non era stato mai fatto, che oggi è stato completato. Penso alle campagne di sensibilizzazione che sono state fatte contro chi inquina e sporca questa città, alle politiche del lavoro, alla grande disponibilità che questa amministrazione ha dato nei confronti degli imprenditori, osteggiata dall'opposizione in maniera violenta. Noi invece siamo convinti che chi ha capacità, idee e mezzi finanziari a disposizione, siano imprenditori seri, vadiano sostenuti e noi l'abbiamo fatto. Una notte di Capodanno all'insegna della Terramanità. La serata di fine anno a Teramo, in Piazza Martiri della Libertà, vedrà la partecipazione di tanti artisti e terramani, tra cui Filippo Graziani. Sindaco, per il Capodanno Teramano cosa andrà in scena quest'anno? Quest'anno, diciamo, per tutta una serie di motivazioni, non ultimo perché l'obiettivo è anche quello di fare un Capodanno dei terramani, per i terramani, con i terramani. E quindi andranno in scena tutti i gruppi, cantanti e personaggi della cultura e della musica teramana. sta dando una mano all'amministrazione comunale Nicoletta Dale, che, insomma, come dire, rappresenta un po' la storia per quello che è stato il nonno e il papà anche della musica terramana. Ospite d'onore Filippo Graziani e tutta una serie di gruppi, di personaggi, anche piccoli, perché ci sarà una bimba che direttamente da Ti lascia una canzone e presenterà, canterà sul palco. Ci saranno DJ, ci saranno i Fazzi Dice, ci sarà un duo a pianoforte, uno contro l'altro. Insomma, voglio dire, un programma ben attrezzato. Ci sarà il Capodannino, a partire dalle ore 16, fine 18.30, storico Capodannino. E, insomma, alle 18.30, come dire, brinderemo insieme ai ragazzi. E poi la novità è che il primo, alle ore 17, ci sarà un musical. Un musical messo in scena da due terramane, Nenzi e Natascia, con tutti artisti terramani. Quindi, voglio dire, ci sarà anche una coda per quanto riguarda il primo. Quindi direi un Capodanno nuovo, se vogliamo, con un obiettivo che era stato già detto, insomma, ripeto, di avere come punto di forza la terramanità. È l'anno, se vogliamo, anche di Filippo Graziani, insomma, dopo il pigro, dopo questo compleanno che abbiamo festeggiato, sarà nuovamente a Terramo, con la gioia di tutti, e devo dire anche di Filippo, ma anche mia. I parcheggi saranno aperti tutti, fino a notte fonda. E, insomma, c'è anche qualche altra sorpresa che poi sveleremo nel corso del Capodanno. Io voglio ringraziare tutti, anche Guido Campana, che ci sta dando un aiuto per quello che può essere. La pagina dello sport, il campionato di Serie B si è fermato, si tornerà a giocare dal prossimo 16 di gennaio, in realtà dal 15, perché ci sarà una partita di anticipo e in effetti proprio oggi c'è stata la comunicazione degli anticipi e posticipi fino alla settima giornata di ritorno. Intanto il campionato riprenderà venerdì 15 con la gara tra Spezia e Bari alle ore 20 e 30. Non ci sono variazioni di giorno per la Virtus Lanciana, che dunque giocherà sempre regolarmente di sabato fino a fine febbraio. Mentre per quanto riguarda il Pescara, la seconda giornata di ritorno, il match del Curi di Perugia contro il Perugia, si giocherà domenica 24 gennaio alle 17 e 30. Mentre per la quinta giornata di ritorno, l'Adriatico Cornacchia, Pescara-Vicenza, si giocherà in anticipo, dunque venerdì 12 febbraio alle ore 20 e 30. Un Pescara che ha chiuso benissimo il 2015 con delle vittorie di misura, l'ultima quella di Latina, in porta c'era Aresti, che sia contro il Modena sia a Latina ha chiuso la partita imbattuto, ha giocato al posto dell'indisponibile Fiorillo e quindi parla di questo suo momento personale, ma anche di questi 37 punti centrati dal Pescara nella prima parte della stagione. Siamo stati bravi, anche un po' fortunati, ma la fortuna aiuta le grandi squadre, noi ci stando una mano. Giriamo a 37, è un risultato incredibile. Questa difesa sicuramente nelle ultime settimane sta facendo meglio rispetto alla prima parte di stagione. Sì, sì, anche oggi strepitosi tutti i quattro ragazzi che avevo davanti. Anche Fornasia quando è entrato è stato colpiglio giusto, è stato molto positivo. Io penso che ora ci siamo messi un po' a posto e siamo una gran difesa. Non vedo tanto bisogno di intervenire dietro. Comunque siamo veramente contenti perché non prendere gol per due partite è importante, ci dà certezza e ci dà fiducia. Il mister è sempre stato diretto, con me so che mi vede bene, ci ha fiducia. Io cerco di farmi trovare sempre pronto. So che ho a fianco a me il portiere più forte della B, che secondo me è Fiorillo. Quindi poi so che quando sto bene anche io posso dare il mio contributo a questa squadra. Ad Aresti, chiedo scusa, sta un po' stretto il ruolo di secondo. Ripeto, Fiorillo è un grandissimo portiere, veramente. Ho tanta stima in lui e tutti e due possiamo dare il contributo. Secondo è una parola che non mi piace. Io quando vengo chiamato in casa devo farmi trovare pronto. Lo stesso sono sicuro che farà Vincenzo come ha fatto. Sicuramente io lavoro tutte le settimane per scendere in campo poi la domenica, ma evidentemente se gioco a Fiorillo vuol dire che Fiorillo quando scende in campo ha dimostrato di essere più forte di Aresti. Chiudete il girone d'andata, ne parlavamo anche con Oddo, con i tuoi compagni, a 37 punti. Niente male come Bottino? Penso che ci avremmo messo la firma col sangue a inizio stagione. Tanta roba. L'anno scorso abbiamo girato a 28, mi sembra. Siamo andate oltre le più rose aspettative, ma ora riposiamoci e poi c'è da battagliare perché sappiamo qual è il nostro obiettivo e lo vogliamo raggiungere. A Lanciano in queste ore tengono banco le tante voci che riguardano più eventuali partenze eccellenti che arrivi per rinforzare una squadra che occupa il penultimo posto. Tra i giocatori dati in partenza Guido Marilungo che sarebbe vicino al Perugia, ma c'è anche Lavellino su Puccino e anche altri nomi. Uno altisonante come il capitano Mammarella che interessa Lascoli e ovviamente Antonio Piccolo che è un po' l'uomo mercato per la Virtus Lanciano visto che il giocatore è in scadenza di contratto. Una Virtus che al momento si consola con la vittoria tonificante sul Livorno che riapre alcuni spiragli di salvezza con la prestazione tra gli altri molto positiva del difensore rumeno Dejan Boldor che ha trovato spazio nelle ultime partite e ha giocato per la prima volta da titolare proprio domenica scorsa. Sicuramente è stata una bella partita da parte di tutti quanti e quindi se io sono uscito tra le applausi vorrei ringraziare soprattutto il mister e i miei compagni che sicuramente mi hanno messo in condizione per poter fare una bella gara. Finalmente ho fatto l'esorto dal primo tempo non accadeva da tanto tempo praticamente quasi non ho mai giocato negli ultimi due anni però a prescindere di questo mi sono sempre messo a lavorare nonostante le difficoltà che ho trovato sia qui sia a Pescara però sono giovane l'unica cosa che conta è di lavorare sempre a prescindere se giochi o no soprattutto quando non giochiamo noi giovani dovremmo dare un po' di più sicuramente non sono una maradona ma un difensore centrale secondo me è un'ottima cosa che sei però sì sì diciamo di sì sono alcune caratteristiche che un difensore secondo me deve avere e poi stare sempre concentrati che è la cosa fondamentale nel calcio il mister ci ha fatto un discorso che la cosa più bella è che siamo rimasti compatti a prescindere delle difficoltà che abbiamo trovato e quindi siamo tutti orgogliosi che la squadra sia dato sempre una mano nonostante tutte le difficoltà diciamo nel calcio ci sono dei momenti quando la squadra va bene quando la squadra va un po' male però secondo me siamo stati bravi fino a prima del gol non penso che abbiamo concesi tantissimi spazi per poter fare il gol e ora parliamo di Lega Pro intanto dell'Aquila c'è fermento in vista della riapertura del mercato prevista per l'inizio del nuovo anno tutti i dettagli nel servizio che segue a cavallo di Capodanno si sta infiammando il mercato invernale dell'Aquila la dirigenza Rosso Blu è a caccia di un centrale difensivo di personalità ed esperienza per puntellare il reparto d'altronde a conti fatti la difesa ha rappresentato il punto debole della truppa di Perrone in questa prima fetta di stagione da settimane si è accarezzato il sogno Emanuele Pesoli in uscita dal Pescara ma l'esperto difensore laziale vuole restare in B ed è stuzzicato dall'idea lanciano nelle ultime ore poi sono spuntati anche i nomi di Ghinassi del Prato e di Patti dell'Ischia ma entrambi non stuzzicano la tifoseria aquilana che invece accoglierebbe volentieri il ritorno dell'ex Andrea Zaffagnini in uscita da Matera e con la voglia e l'affetto di tornare a vestire i colori rosso-blu la dirigenza però non sembra pienamente convinta tra l'altro su Zaffagnini spingono forte Casertana e Padova si attendono importanti sviluppi nei prossimi giorni sul fronte Teramo si pensa intanto alle partenze poi ci si concentrerà sul rinforzo della squadra con nuovi inserimenti tra i giocatori che stanno per lasciare Teramo e il Teramo il centrocampista ex pistoiese Virtus Lanciano Simone Calvano che potrebbe proseguire la sua esperienza in cadetteria c'è Lavellino sul giocatore che appunto è ai titoli di coda della sua esperienza teramana poi chiaramente da sistemare altre situazioni tra le quali quella dell'attaccante brasiliano da Silva chiudiamo con un ultimo servizio parliamo di rugby grazie ad una donazione effettuata nel post terremoto verrà realizzata una nuova tenso struttura nel compresso sportivo Centi Colella a beneficiare dell'intervento la società della polisportiva L'Aquila Rugby non si ferma l'onda lunga della solidarietà nei confronti dello sport aquilano nell'immediato post terremoto nella città di Rovigo e altri comuni del Polesine furono raccolti 50.000 euro destinati alla società Old Rugby L'Aquila per la costruzione di un campo da rugby a roio un progetto forse troppo ambizioso che con i fondi a disposizione forse si sarebbe potuto solo iniziare e che difficilmente sarebbe stato completato per questo la donazione è stata passata proprio come nella pallovale a chi può andare a meta la Old Aquila Rugby ha ceduto i 50.000 euro alla polisportiva l'Aquila Rugby che li utilizzerà per costruire una tenso struttura nel complesso sportivo di Centi Colella a disposizione di giovani regbisti e sportivi che quotidianamente frequentano gli impianti una bella storia di solidarietà per incentivare lo sport in una città che ha sempre più bisogno di spazi di aggregazione per i giovani per la realizzazione di cioè per la messa in atto del nostro progetto che è quello di completare le attrezzature del complesso di Centi Colella con una palestra per destinata ai giovani regbisti e non solo naturalmente a chi la vorrà venire ad utilizzare Questa decisione è scaturita dal fatto che la nostra amministrazione comunale dopo sei anni non aveva sciolto la nostra richiesta di un cambio di destinazione di uso di quei terreni che avevamo opzionato sul roio per cui dopo sei anni anche gli amici di Rovigo chiedevano la sistemazione di questa loro donazione e abbiamo scelto insieme a loro dire donarla a chi da tempo dalla storia del rugby di questa città si occupa di giovani e quindi donarla alla polisportiva perché continuasse in quell'opera di formazione scusate dei giovani e aquilani era questo l'ultimo servizio del TG6 vi lascio al TG6 l'Aquila l'appuntamento con l'informazione di TV6 e poi per la terza edizione delle ore 23 grazie per l'attenzione buona serata grazie per l'attenzione